Raccontaci la giornata tipo all'Agnese. La giornata tipo dell'Agnese era entrare al mattino con tutti i miei colleghi, andavamo nello spogliatoio, poi scendavamo giù nel reparto, c'era il nostro capo che ci diceva a che macchine dovevamo andare, se andare a confezionare spaghetti o andare a confezionare mezze penne o gli altri formati corti. Io ero una jolly, quindi per me tutte le mattine o tutti i pomeriggi era un'incognita dove andare. A volte mi arrabbiavo, specialmente quando c'erano da confezionare determinati formati. Però oggi come oggi vorrei confezionare tutti i giorni quei formati che io contestavo. e adesso mi rendo conto di quello che abbiamo perso. E com'era il rapporto tra voi colleghi? Il nostro rapporto era bellissimo. C'erano magari delle giornate in cui eravamo più nervosi, però era bellissimo perché poi alla mezz'ora che avevamo di pranzo andavamo a mangiare, chi ha la mensa, chi no, io non già andavo perché preferivo stare quella mezz'oretta tranquilla. Però avevamo le nostre pause da caffè, le nostre risate, le nostre... era una famiglia, non era una fabbrica. Grazie. Grazie.